Sì, è in corso un contrattacco anti-ecologista o anti-clima direi in Italia soprattutto e in Europa. Le ragioni sono molto semplici, i settori che si sentono più minacciati dalla transizione verde contrattaccano ed essendo settori molto ricchi come quello dei fossili ma anche la grande industria inquinante evidentemente riescono ad avere un'influenza anche su chi decide soprattutto in paese come l'Italia dove è un paese sostanzialmente di destra e fa anche molta leva sull'ignoranza che esiste su questi temi e sul fatto che sono molti anni che si coltiva un certo econegazionismo. Quindi la disinformazione ha facilissima presa in un paese come l'Italia e quindi questo tipo di contrattacco sta avendo senz'altro successo. Tra i più grandi elementi di disinformazione c'è sicuramente l'idea che il cambiamento climatico non è poi così urgente, ci sono altre urgenze come la mancanza di lavoro, la povertà o le bollette alte senza capire che esiste una diretta connessione fra tutti questi problemi e i cambiamenti climatici. Ed è su questo che noi ambientalisti non siamo riusciti ancora a convincere i nostri concittadini anche perché il Covid ha sicuramente avuto un impatto estremamente negativo sulle mobilitazioni dei giovani che sono quelle che hanno portato poi a facilitare l'adozione del Green Deal e i nostri rappresentanti politici che in teoria dovrebbero difendere queste posizioni sono ancora molto deboli. Quindi abbiamo da fare, rimobilitare e riportare la politica ecologista al centro del dibattito italiano. Io non credo che sia in corso un'ondata antiambientalista, la premessa che dobbiamo fare è che forse oggi dire ambientalismo significa dire tante cose diverse, forse dovremmo usare ambientalismi e a volte queste cose diverse non sono neanche poi del tutto d'accordo tra di loro. Quello che vedo è assolutamente una grande battaglia della destra intesa come partiti, come mondo culturale e poi di un certo anche fascia d'età spesso di persone piuttosto anziane contro il Green Deal, i provvedimenti dell'Unione Europea che ricordiamo vengono messi in campo quando sono d'accordo con missione, Parlamento e singoli stati, altrimenti verrebbero bloccati. I provvedimenti del Green Deal sono al momento l'unica concreta possibilità che l'Unione Europea si sta dando per avere un futuro per la propria economia. Rinunciare a quelli significa rinunciare al futuro dell'economia europea, quindi posti di lavoro, quindi benessere per il futuro e in Italia vengono tutti declinati con questo provvedimento vi vogliono togliere la casa, con questo provvedimento vi vogliono togliere il lavoro, con questo provvedimento vi vogliono togliere l'auto e la possibilità di muovervi, quando in realtà tutti questi provvedimenti non solo sono pensati per consentire la decarbonizzazione dei nostri consumi, ma soprattutto per aumentare la qualità della vita, dare un futuro all'economia del nostro Paese e dell'Unione Europea in generale. Io non credo ci sia una diffusa ondata antiambientalista fra i cittadini, neanche nel mondo delle imprese che invece vedo sempre più impegnate sulla sostenibilità, che molte di più hanno capito come la sostenibilità può essere anche un'occasione di sviluppo di nuove economie e non soltanto un vincolo da rispettare. Quello che è certo è che è cambiato il sentiment politico, se il Green Deal europeo era nato non solo per affrontare la crisi climatica, ma anche per accompagnare una sorta di rivoluzione industriale, digitale ed ecologica, ed è nato prima della pandemia, oggi alla vigilia delle elezioni europee vediamo che c'è da questo punto di vista un arretramento, la vicenda della protesta dei trattori dimostra come anche a Bruxelles sono più attenti alle pressioni di lobby rumorose quanto potenti e non forse a una visione più a lungo termine e purtroppo le scelte che fa l'Italia, le ultime quelle in questi giorni sulle case Green, vanno proprio in quella direzione di freno e non di promozione. Uno dei punti principali su cui si spinge nell'antiambientalismo attuale, che poi anche la parola ambientalismo è un po' superata nel senso che fare la transizione ecologica ed energetica cambierà tutti gli aspetti della vita, si spinge per esempio sul fatto che perderemo tanti posti di lavoro, sul fatto che costerà molto, ma in realtà tutti gli studi e tutto quanto ci dice che se noi questa transizione la facciamo in maniera equa i posti di lavoro saranno molti di più, secondo gli analisti, fino al triplo dei posti di lavoro rispetto per esempio a un'economia fossile dove guadagnano in pochissime persone e poche aziende giganti fossili, mentre invece sappiamo che facendo pannelli solari distribuiti con multe energetiche, anche tanti impianti, questa cosa qua può favorire e garantire maggior sicurezza energetica e costi più bassi dell'energia alle persone e anche più affidabile e soprattutto anche meno guerre fossili che poi vanno a pagare i dittatori fossili. Quindi insomma non solo è un grande piano di pace la transizione ecologica, ma ci conviene farla anche dal punto di vista economico. La manifestazione antiambientalista più forte che ha riguardato tutta l'Europa è sicuramente la protesta degli agricoltori che si sono ribellati al provvedimento che voleva dimezzare del 50% l'uso dei pesticidi al 2030. Metterei anche il rilancio del nucleare, siamo sempre al nucleare da fissione, quindi non è cambiato niente dal punto di vista del principio fisico, quello che al massimo può cambiare è il contenitore. Il cambiamento climatico d'altra parte è sotto gli occhi di tutti, ma l'idea appunto di contrastarlo con il nucleare non ha senso perché appunto i tempi di costruzione e i costi sono pazzeschi. Io metterei anche a fuoco il libro di Bruno Latour e Nicolai Schulz che ha messo in evidenza come al movimento ambientalista sia mancata l'identificazione di una classe sociale di riferimento. Per il socialismo e la classe operaia, per il neoliberismo e la classe imprenditoriale, il movimento ambientalista non ha individuato una classe climatica cosiddetta.